Giovedì 16 settembre alle 20.30 al punto Tappa in strada Romea numero 5 facciamo una riunione su tutto il settore dei boschi. Il comune di Bercetto che è circa 140 km2 è ricoperto per il 70% da boschi e il bosco sta recuperando anche tutti quelli che erano i terreni coltivi di un tempo e siamo veramente, come diceva una volta il comandante della forestale Ricci, ricchi di boschi poveri. C'è l'intenzione dell'amministrazione comunale insieme all'amministrazione provinciale, quindi alla regione, all'Unione Europea, alla Soprim, di ricorrere, di studiare un progetto da presentare all'Unione Europea per utilizzare meglio i nostri boschi. Il bosco in ordine vuol dire anche avere meno problemi di dissesto idrogeologico, vuol dire avere anche degli spazi molto richiesti dai turisti, che oggi è quasi impossibile entrare nei nostri boschi per il disordine, per le condizioni in cui sono stati lasciati, vuol dire anche riordinare un settore che adesso ha preso importanza, se si vuole anche per aspetti negativi, proprio perché c'è la crisi economica, che è l'utilizzo della legna. Ebbene, molti dei nostri boschi non vengono tagliati bene e ci sono dei problemi che vogliamo affrontare insieme agli operatori del nostro territorio, alle cooperative, ma anche agli operatori privati, proprio perché sappiamo che ci sarà collaborazione a fare meglio. Per cui è una riunione importante, anche se è una prima riunione in questo settore che facciamo. Ci sarà anche l'esperto per tutto il settore boschi, per tutto il settore boschivo del Comune di Berceto, anche se a titolo gratuito, il dottor Italo Pizzati, che seguiremo quindi quelle che sono le sue direttive, la sua grande competenza nel settore.